Dependabot per Azure Pipelines. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere come utilizzare il famoso Dependabot di GitHub anche sulle Azure Pipeline di Azure DevOps. Dependabot è una feature di GitHub che è diventata ufficiale ormai da qualche tempo, che analizza i sorgenti, in particolare le librerie da cui i nostri sorgenti dipendono, e va a creare delle pull request per proporre di aggiornare tali librerie. La necessità nasce dal fatto che ormai tutti i software utilizzano tantissime librerie di terze parti e rimanere aggiornati su quelle che sono le ultime versioni, in particolare per quelli che sono gli aggiornamenti relativi alla sicurezza, sui progetti grandi o in un team o azienda dove abbiamo molti sorgenti da mantenere, è praticamente un lavoro molto impegnativo. Ecco che Dependabot lo fa al posto nostro. è compatibile con le gallerie di librerie più diffuse, quindi abbiamo i Nuget, gli NPM, i Maven e così via, e dai file che descrivono i pacchetti presenti nella nostra applicazione, va a vedere quali versioni utilizziamo, consulta le gallerie e vede quali sono le nuove versioni e propone gli aggiornamenti. Come lo fa? Beh lo fa aprendo delle pull request dove ci va ad aggiornare i file delle dipendenze con i numeri di versioni relativi, ma andiamo a fare un esempio in particolare per Azure DevOps perché questa funzionalità è nativa, diciamo stata integrata dentro GitHub ma non c'è ufficiale nativa dentro la stessa cosa dentro Azure DevOps e noi andiamo a fare la stessa cosa con un'estensione di terza parte che dobbiamo prima installare. Allora per prima cosa dobbiamo installare l'estensione di Dependabot, quindi dentro la nostra organization di Azure DevOps andiamo in alto a destra, andiamo nel marketplace, facciamo browse e andiamo a cercare l'estensione Dependabot. Eccolo qui, è questo, faccio get it free, qui ci sono anche degli esempi su come utilizzarla. Per poter installare bisogna avere i corretti permessi a livello di organizzazione. Ok, la installo nella mia organizzazione, ho i permessi altrimenti ci sarebbe il pulsante di richiedi, autorizzazione e faccio proceed to organization. A questo punto ritorno nella mia organizzazione e avrò a disposizione il task. Una volta installata l'estensione quello che posso fare è appunto creare una pipeline in questa maniera. Qui ho creato un progetto .NET che quindi utilizza una gallery Nougat. Andiamo a vedere come l'ho configurato. Allora, questa è una pipeline dedicata a Dependabot che parte non a seguito di un trigger, ma ha utilizzato la funzionalità di schedulazione e quindi parte ogni giorno alle 11 della mattina. Che cosa fa? Viene sganciata su una macchina di tipo con a bordo Ubuntu, scarica i nostri sorgenti e esegue il task Dependabot che diventa disponibile nella nostra lista dei task dopo aver installato l'estensione che abbiamo fatto poco fa e lo si trova così. Dependabot, eccolo qua, e lo si aggiunge. Dependabot ha tanti settings, in particolare quello relativo all'utilizzo di un file Dependabot YAML, cioè è un file di configurazione che deve essere presente nel nostro repository in questo posto, .github-dependabot.yaml, con o senza la A, dove andiamo a configurare il comportamento che deve avere Dependabot. Poi ci sono tutta un'altra serie di configurazioni più avanzate relativi alla sicurezza, eccetera, ma andiamo a vedere il comportamento di base. Quindi, vengono scaricati i sorgenti e viene lanciato Dependabot. Facciamo un run e vediamo subito che cosa succede. La pipeline parte all'interno di un container Ubuntu, vengono scaricati i sorgenti con un git clone e poi parte Dependabot. Questa implementazione si basa su un'immagine, quindi su un container Docker. Vedete che usa Docker Run, l'immagine è Tingle Software barra Dependabot. La vediamo qui. E dopodiché lui comincia a leggere, in base alla configurazione che gli ho dato, il file che descrive che pacchetti utilizza la mia soluzione e lui, per esempio, per ogni dipendenza va a controllare, per esempio, che versione uso io e quale c'è. Io, in questo specifico caso, gli ho detto di andare a controllare solo e farmi le proposte di aggiornamento solo per le versioni patch, in termini di numero di versioni interpretato alla same version, quindi major, minor e patch. Andiamo a vedere cosa ha fatto. Vado ad aprire le pull request, vado a vedere le attive, eccole qui, sono arrivate, vediamo. Allora, c'è BAMP Microsoft Authentity Framework Core in Memory da 7.05 a 7.0.10, appunto, perché è sensibile solo alle versioni patch, che è una configurazione che gli ho dato io. Andiamo a vedere. Dentro che cosa troviamo? Vediamo che questa pull request è stata aperta dall'agent di build e ha creato un branch con questa convenzione sui nomi, dependable, nugget, master, eccetera, into master. Quindi crea una pull request che noi dobbiamo validare. Da GitHub, se può, lui prende tutte le descrizioni delle release, poi a un certo punto viene troncata. e questa è una funzionalità. Altre cose che possiamo fare, che possiamo specificare a livello di task qui di dependable è per esempio che gli possiamo dire che le pull request si auto-approvino. Quindi mettere l'auto-approve delle pull request. Questa è un'operazione magari un po' delicata, ma assolutamente pratica. quindi viene aperta una pull request che si auto-valida e può essere utile da fare quando abbiamo degli unit test che ci vanno a coprire la nostra codebase. In questa maniera aggiorniamo le nostre librerie e abbiamo i test che girano e ci possiamo assicurare che abbiamo il nostro livello di qualità come prima e le funzionalità assicurate. Un'unica cosa che non abbiamo controllato è quello che lui fa qui all'interno che effettivamente nella pull request lui va ad aggiornare quindi si vede che interviene sul file di progetto dove va a dire guarda che devi prendere non più la versione 7.05 ma la versione 7.0.10 Altre per esempio opzioni che possiamo passare qui è il numero di pull request massimo che lui apre in questo caso il di default è 5 vediamo infatti che qui si è fermato a 5 e lo possiamo vedere mi pare qui anche dai log limit of pull request 5 reached tutti i parametri che andiamo a impostare sul task vengono passati come variabile d'ambiente qui al container che viene mandato in esecuzione con il docker run vediamo infatti il 5 la directory, il branch di riferimento insomma tutta una serie di cose devono essere anche specificati ci sono delle configurazioni apposite da fare nel caso di accesso a gallerie e nugget private bisogna passare gli token eccetera per quanto riguarda la configurazione appunto il file che dicevamo prima è all'interno della cartella github un file dependable.yml questo è un file abbastanza semplice per tutte le opzioni di configurazione c'è la pagina ufficiale su github il task quindi su azure devops è assolutamente compatibile e legge senza problemi queste configurazioni e qui io sono andato a fare un esempio infatti rivediamo qui quei parametri che sono stati passati prima all'immagine una cosa molto interessante è la parte ignore intanto qui gli ho dichiarato che io utilizzo la galleria diciamo nugget e quindi lui va a cercarsi i file che descrivono le dipendenze da nugget all'interno della directory e subdirectory specificata la parte ignore è molto utile perché posso andare a escludere posso mettere delle regole di esclusione per esempio su alcuni pacchetti che non voglio che vengano aggiornati automaticamente e anche magari su alcune tipologie di aggiornamento quindi in questo caso per esempio ho fatto una prova ho voluto escludere quelli che sono gli aggiornamenti di versioni major e minor e quindi sono andato a prendere l'unica cosa che resta sono i patch questo perché potrebbe essere all'interno di un ragionamento dove diciamo guarda io mi faccio aprire la dependa bot le pull request solo per incrementi molto piccoli che di sicuro di solito quelli di sicurezza compaiono così con i patch perché sono sicuro che magari non vado a introdurre cambiamenti troppo invasivi ovviamente ci sarebbero dei ragionamenti ben più importanti da fare per i cambi di versione major che di solito introducono dei breaking changes insomma qui c'è un po' da adattarsi a quelle che sono le esigenze del team per oggi con dependa bot ci fermiamo qui abbiamo visto l'installazione e l'utilizzo di base se da questo video hai imparato qualcosa o ti è piaciuto mi raccomando mettimi un mi piace per rimanere aggiornato sugli ultime uscite e sulle best practice di box ciao